Grazie a tutti! Sotto e in mezzo. Inoltre la maggior parte stringe tanto da farti mancare respiro. Basta! Adesso i creatori del famoso reggiseno Comfortis Bra, di cui sono state vendute milioni di unità per televisione, hanno ideato Contour Top, il modellatore più comodo e seducente del mercato che ti permetterà di plasmare immediatamente la figura dal petto alla vita. Il segreto risiede nella sua realizzazione in un solo pezzo senza cuciture, che combina il sostegno di Comfortis Bra, i vantaggi estetici di un modellatore e la comodità e leggerezza di una canotta. All'essere in un solo pezzo occulta immediatamente le antiestetiche maniglie dell'amore, i cuscinetti anteriori e l'accesso di grasso alla schiena. Basta indossare Contour Top per sembrare subito più magra. Le maniglie dell'amore, l'eccesso di grasso alla schiena e lo stomaco scompariranno. Il petto verrà esaltato e ben sorretto. Il girovita sembrerà più sottile e il resto del corpo più snello e sodo. Contour Top è molto leggero, elastico, traspirabile ed è così comodo che lo puoi usare sotto il vestito, con la giacca, stile casual, per mettere in risalto il tuo abito preferito o come parte del tuo guardaroba estivo. Sembrerà che abbia perso sino a 4 kg e due taglie in un attimo. Passerai da questo a questo. Inoltre non dovrai regolare, muovere o ricollocare Contour Top. Ci potrai dormire o fare ginnastica e manterrà sempre la sua forma indipendentemente dalle volte che lo lavi o lo usi. Contour Top è stato realizzato con la famosa macchina per maglieria italiana Santoni, che crea zone modellanti che stilizzano le aree problematiche del corpo. Le zone modellanti agiscono su 4 aree. La zona del busto esalta il petto eliminando contemporaneamente i cuscinetti, le maniglie dell'amore e l'accesso di grasso. La zona addominale spiana il ventre. La zona lombare elimina i rotolini del girovita. E la zona della schiena stilizza tutta la figura. La chiamiamo comodità tridimensionale senza cuciture, giacché il capo lavora in tre modi differenti per offrirti una figura quanto più snella possibile. Il sostegno e la contenzione di un buon reggiseno, la comodità di una canotta e i vantaggi di un confortevole modellatore che non stringe. I reggiseni di buona qualità costano tra 50 e 100 euro. Una canotta decente costa tra i 25 e i 50 euro e i modellatori costano sui 100 euro. In altre parole, se vuoi essere bella e allo stesso tempo avere una figura snella e magra, dovresti pagare tra 125 e 250 euro. Ma questa è la tua opportunità di risparmiare tutti questi soldi e ottenere il capo 3 in 1 Contour Top. Contour Top disponibile in beige, nero, bianco, rosso, blu e grido. Compralo subito!